Musica Calò Giuseppe, nato a Palermo il 39-31 Bene, il pubblico ministero, prego Signor Calò, lei ha preso parte all'organizzazione dell'omicidio di Carmine Pecorelli? Assolutamente no Lei ha avuto delle notizie, delle informazioni riguardanti lo svolgimento e l'organizzazione di questo omicidio? Assolutamente no Non ne ha mai saputo nulla? Nulla L'hai fatto parte di Cosa Nostra? Questa domanda me l'aspettavo veramente sul pubblico ministero E io ogni volta che mi hanno fatto questa domanda alcuni pubblici ministeri Io ho risposto in una maniera Io ho fatto tre confronti con Buscetta E tutte le volte, perché il primo accusatore mio è Buscetta Dove mi inserisci in questa organizzazione e nella commissione di Cosa Nostra Io ho fatto tre confronti e ho chiesto a tutte le corte di fare accettamente Secondo quello che aveva detto Buscetta Io non ho avuto nessuna istanza fatta dall'avvocato mio per fare accettamente E' stata accolta dalla corte E allora io non so cosa posso fare per essere creduto Perché se io le dico no Lei ci crede? Perché lei verrà e mi dirà La Cassazione ha accertato che lei fa parte di questa organizzazione Fa parte della cupola E lei finisce il discorso così Allora io avevo tutta l'intenzione oggi in questo processo Dire il motivo perché io ora voglio chiedere un confronto con Buscetta Appunto, penso che una volta che Buscetta è quello che mi inserisce in questa organizzazione E nella commissione Lei vuol sapere questo Io le dico questo Quando Buscetta mi ha Come fa a dire che io faccio parte di questa organizzazione? Lui mi ha detto che io ero stato eletto Per essere capo nella famiglia di Portanova E allora io ho voluto sapere da Buscetta come si fa per essere eletto Per fare un rappresentante di una famiglia E lui ha spiegato alla corte che bisogna fare una riunione Fare delle votazioni Tutti i membri della famiglia debbono essere riuniti Fare la votazione con biglietti E così eleggere il capo Sia come capo della famiglia Sia come facendo parte nella commissione E allora io Lui aveva fatto un elenco E l'avvocato Galassio era presente in questo confronto Non è che è la prima volta che è presente in questi confronti Io allora ho voluto sapere chi erano i nominativi di questi Che partecipavano a questa riunione E giusto giusto erano quasi tutti Nominativi che erano stati arrestati E per il processo di Catanzaro Beh allora io in quel periodo Tutti questi Lui ha detto Ha dato una data Ha fatto una data Nel 1970 si sono riunite E hanno eletto il capo ipocalo Allora io chiedo alla corte Si farà certamente Se quei membri Quei nominativi che aveva fatto Buscetta Erano presenti in quella riunione Oppure erano carcerati Oppure erano a soggiorno obbligati Così pure quando parla della commissione Perché Buscetta che cosa dice della commissione? Che nel 70 si è fatta la famiglia di Portanuo Poi nel 73, principi 74 Si è composta la commissione Prima c'è stato un triunferato E poi si è composta la commissione I nominativi che lui fa a Buscetta Facendo questi che fanno parte di questa commissione Come nella famiglia di Portanuo Erano quasi tutti carcerati Almeno qualcuno era libero E allora che cosa chiedo io? Di fare certamente alla corte Alla corte L'avvocato fa un'istanza Bene io quante volte ho fatto questa richiesta A tutte le varie corte d'assise Mai mi è stata accettata Di fare questo accertamento Cioè accortati di fare questo accertamento Perciò cosa vuole che le rispondo Di un pubblico di queste Se questi accertamenti non mi vengono fatti Che cosa io le devo dire? Sì E se magari potessi dire sì Così mi potrei difendere meglio Ma non lo posso dire perché non è vero E non pensi perché tutti gli altri sono venuti a dire Che Calò fa parte della commissione Perché io sono stato condannato in parecchi processi Perché faccio parte della commissione Basta questa parola Io non mi posso più difendere Essendo che io faccio parte della commissione Allora devo decidere Sono facendo parte Allora decido tutti gli omicidi Especialmente quelli eccellenti E allora io non mi posso più difendere Sono condannato ogni volta Senza poter dire Perché io quando chiedo Ma a un accusatore A un collaboratore Ma dimmi una cosa Tu eri presente quando abbiamo deciso Questa successione di questo magistrato Oppure questo politico Dice no E come fai a stabilire che io sono colpevo? Fa parte della commissione Ma così si può condannare all'ergastolo A una persona solo con queste due parole Ma allora questa commissione perché esiste? Non lo so Solo per dire sì Tutte le cose che esiste Allora perché esiste questa commissione? Se è vero che esiste La risposta alla domanda che l'ho fatto Quindi è no Lei non ha fatto parte di cosa nostra Guardi Io non vorrei Lei facci fare questo accertamento Guardi Mi scuso Tutto quello che io dirò Sono tutte cose documentate Perciò lei eventualmente Può fare accertamento Può chiedere Documentazione Poi lei chiede gli accertamenti Che ha indicato E chiede anche un confronto Con Tommaso Buscetta Magari potessero Perché da parecchio tempo Non posso fare un confronto con Buscetta Vorrebbe fare un confronto Anche con tutti gli altri collaboratori Prima Tutti gli altri collaboratori di giustizia Che la indicano come componente della commissione Come capomandamento di Porta Nuova E particolarmente con i collaboratori Che sono stati sentiti in questo processo Prima con Buscetta Prima con Buscetta Prima con Buscetta Lei ricorda Lei come spiega che non è Che Buscetta E poi gli altri lo indichino come Appunto dico Io quello mi voglio far spiegare Lo indichino come Componente di Cosa Nostra E come capomandamento di Porta Nuova Se noi stiamo attenti A tutto quello che hanno detto I collaboratori Nessuno sa dare Un'indicazione precisa Quindi lei non sa Il motivo per cui Lei ha indicato Certo Ma vuole che io Devo spiegare il motivo Perché Vedete Buscetta Intanto le dico una cosa Il contorno Non ha mai parlato Quando No adesso lo stavo facendo Mi scusi Cerchiamo di restare Nel binario di domande e risposte Le sto chiedendo Se sa dare delle indicazioni Sulle ragioni Per le quali Questi collaboratori La indicano Come Componente di Cosa Nostra E come Capomandamento E membro della commissione Ma lei pensi E quando Con questa domanda Io le chiedo Non so se ha avuto Ragioni di Non so di contrasto personale Di rancore Di risentimento Con qualcuno E venga a dire Al pubblico ministero Che Calò non fa parte Della commissione Viene accettato Come collaboratore Quindi lei dice Nella sostanza Che sono stati Determinati a farlo Perché Ma io vorrei vedere Un collaboratore Guardi Che lo stesso Brusca Altanissetta Che ha detto Che la strage Di Capace È stata decisa Di poche persone Beh non è stato creduto In altri processi È creduto E lì non è stato creduto Perché giustamente Debbono condannare tutte E questa è la ragione Che lei Sì 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 Si ho proposto Senta ma lei Tommaso Buscetta L'ha conosciuto Chi? Tommaso Buscetta Sì Ecco in quelle occasioni L'ha conosciuto Ma guardi Buscetta Ha mentito Dal primo giorno Io adesso le sto chiedendo Se l'ha conosciuto Guardi lo conosco La Buscetta Dal 1954 55 Così Perché Come? Perché no Io lavoravo In un magazzino Di tessuti Come commesso Allora Ero ragazzo In via Macqueda Lì a Palermo A distanza di 100 metri Il fratello di Buscetta Aveva una fabbrica Di specchi E Buscetta Lavorava come operaio Come Operaio In quella fabbrica E lì Fra Questo Negozio Dove abitare Dove lavoravo io E la fabbrica Di Buscetta C'era 100 metri Di Di Cioè Avvocato Via Macqueda Vicino via Via L'avvocato lo sa Il posto Proprio meno Via Macqueda Vicino via Via Bandiera Sant'Agostino E via Bandiera Quanto c'è 150 metri Avvocato Ero con lei 150 metri A metà c'era Cafris No Il caffè Cafris E ci vedevamo Due mattine Lì a prendere Il caffè Parlavamo di sport Poi si è rafforzato Un pochettino Il rapporto Perché Io Poi Dopo Nel 59 Così Ho Acquistato un barretto Proprio in via Sant'Agostino Con la licenza A nome mio E E pregavo a tutti quelli Che conoscevo Di venire a prendere Il caffè Da me Compreso Il fratello di Buscetta Compreso Buscetta Poi Buscetta stesso Andò a abitare Vicino dove abitavo io Vicino piazza in Grastone E ci vedevamo spesso Nell'autobus Questo è il rapporto mio Con Buscetta Ma più L'amico Poi I rapporti più intimi Erano con il fratello Di Buscetta Con Vincenzo Buscetta Non con lui E fino a quando è durata Questo rapporto Con Buscetta Ma poi lui Da Questo Non l'ho visto più Dal 60 in poi Perché Il fratello stesso Si lamentava Con me Perché Aveva abbandonato La moglie E i figli Si era fatto Una donna Si era Aveva una Si era fatto Un'amante Ed era più Partiva Veniva Non andava più E si lamentava Si lamentava Con me Di questo comportamento Di Massimo Buscetta Cioè Lei non l'ha più visto Dagli anni 60? No Dagli anni 60 E poi lui E poi è nato in America E poi L'ho rivisto Nell'80 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 A Roma C'è stata Non potevo avere rapporti Rapporti familiari Quando poi Lui venne Dalla Brasile Venne A Roma Da me Non potevo Avere rapporti Perché Quella Per lei Non era la sua moglie Perché la moglie Io la conoscevo Per me Non era La moglie Quella vera Era Non so Se moglie Effettiva Effettivamente Ah quindi Dopo L'ha rivisto Lei anche a Roma Sì 80 Ma Deve vedere Ora le dico Come l'ho visto Io a Buscetta Buscetta Ecco Allora parliamo Di quando vi siete rincontrati Di quando Siamo rincontrati A Roma Ora le spiego Io Abito a Roma Dal 1973 Nell'80 Perché poi Vede Lui Quando io sono stato interrogato Dal pubblico ministero Dal Dottor Falcone Lui ha detto Ha fatto una versione Di come ci siamo visti E incontrati Io ho fatto la mia Però Dottor Falcone Non ha fatto nessuna indagine Per quello che l'ho detto E poi A confronto Lui ha ammesso Che avevo ragione io Che era come dicevo io Lui Mi venne a trovare Indicato Però Per mezzo del fratello Perché aveva bisogno Di Come mi ha detto lui Aveva bisogno Di stare un paio di giorni A Roma Per sbrigarsi Qualche pratica Io a lui Mi dice Siccome lo conoscevo E ho capito Che era in una situazione Era ricercato Della polizia Perché si era allontanato Dalla Da Torino Che era insieme a Libertà Non insieme a Libertà In permesso Si era allontanato E io anzi Lui ho consigliato Ma perché Mi diceva che doveva fare Pochi mesi Ancora E poi era libero E io gli ho sconsigliato Anzi Ma perché per pochi mesi Dice no no Io dice Devo andare in Brasile Perché In Brasile Ho una proprietà Devo guardare O dei beni Da seguire Ecco Dice Io Devo andare in Brasile E allora Io dico Che cosa ti serve Io ti serve Di poter abitare Per un paio di giorni Io allora Come amico E mi rivolgevo sempre In tutto quello Che avevo di bisogno Era un romano Che si chiamava Balducci Che ho conosciuto Addirittura Nel 1954 A Palermo E allora Io vado a trovare Questo mio amico Domenico Balducci Domenico Balducci E dico Sente Tu hai la possibilità Di trovarmi Un appartamentino piccolo Per far abitare A un mio amico Per due o tre giorni Si è interessato E mi ha trovato Un appartamentino A centro di Roma Dopo Due giorni Che Però io ancora Non glielo presento Mi da Il mio amico Mi dice Mi indica dove L'appartamentino Mi da le chiave Io glieli do Poi Gli indico L'appartamento A Buscetta Gli do le chiave Poi dopo Due o tre giorni Mi viene a ritrovare Buscetta a casa Dice Senti Dici Io Dici In questo appartamentino Dici Vedi se mi puoi trovare Una possibilità Perché dice Non funziona Lo scaldabagno E' sporco E' piccolo Ma io dicevo Ma Poco piccolo Ma non ci doveva Abitare Sì Dice Guardi Vedi se puoi trovarmi Un'occasione Io Proprio in quel periodo Mi dovevo allontanare Con mia moglie Ero a Roma Con mia moglie Mi dovevo allontanare Io ho detto Senti Facciamo una cosa Io mi devo allontanare Per un po' di giorni Se vuoi Ti prendi Il mio appartamentino Il mio appartamento Però Quando ritorno Me lo deve lasciare libero Me lo voglio trovare libero Perché Sono con mia moglie Dice Ma a me mi servono Due o tre giorni Allora facciamo una cosa Io ti presento Un mio amico Così Quando tu te ne vai Ti metterai d'accordo con lui Gli conseglie le chiave E Così E gli presento A Balducci Però a Balducci Domenico Non gli dico Guarda vedi che questo è Buscetta Non glielo dico Non glielo dico Poi sarei stato Buscetta A diglielo Perché A parte che è un megalomene È un tuffaldino Megalomene Tutto lui C'ha in una vita E Che succede? Che io Me ne va Mi allontano Presento Balducci A Buscetta Gli dico Senti Balducci Appena il mio amico Starà due o tre giorni In questo mio appartamento Ti dovrà trovare Dì a lui dove Ti deve venire a trovare E ti deve consegnare le chiave Io non so più niente I rapporti che hanno avuto Con Balducci E loro due Poi ho saputo Ma sempre però Discorsi di Buscetta Che io a Balducci Questi discorsi Non me le ha fatti Che sono stati assieme Che gli ha pagato Perché lui che cosa ha detto poi Che gli ha pagato L'aereo A suocere Ma queste cose Balducci a me Non me le ha detto E allora dopo Io manco addirittura Sette giorni Sono sicuro Che non trovare Nessuno a casa mia Vado Sotto casa Con la macchina C'è la mia moglie Dico Senti Aspetta Conoscendo un po' Buscetta Nel senso Per quello che mi aveva raccontato Il fratello Dico Ma potresti Che si trova ancora a casa Voglio vedere Non faccio scendere Mia moglie Della macchina Aspetta un momentino qua Suono Per vedere Paff Buscetta Mi risponde Buscetta Anzi no Mi risponde una donna Pronto Italiano un po' Così così Ma che c'è a casa mia Poi se ho sbagliato Poi viene Buscetta al telefono Ah sei tu Si sale un momentino E già Comincio a dire Ma chi è a casa mia Chi c'è a casa mia Entro A casa mia Mi apre la porta a Buscetta Dice Senti Guarda Dice Sono ancora qua Dice Sono con mia moglie E Vedo una donna Bionda E una persona anziana A piede scalse Perché Forse abitudine che hanno Loro I brasiliani Senti Io già me ne sono fa Perché dico Tanto questa non è Tua moglie Perché tua moglie La conosco A chi mi hai portato A casa mia Io non so Di questo Rapporto con Buscetta Cioè Se avevo Questa donna Brasiliana Come moglie Non sapevo niente Di queste cose Perché io dico Ma a chi mi hai portato A casa Guarda Mia moglie Sì ma è tua moglie Intanto Guarda Io ho mia moglie sotto E io ho bisogno Di un appartamento libero Dice Non mi puoi dare Due giorni di tempo Così vedo un po' Senta Io gli ho dovuto dare Due giorni di tempo Perché non sapevo come fare Non è che potevo andare A abitare Con mia moglie Assieme O abitare con lui In quell'appartamento Con mia moglie Ma dico Guarda Io me ne sto andando In appello Con mia moglie Ma Fra due giorni Devo trovare L'appartamento libero Torna Tra due giorni Che ti faccio trovare L'appartamento libero Così io Con mia moglie Me ne vado in appello Su un appello Torno Dopo due giorni Salgo sopra E trovo lui Soltanto Senza La moglie Senza il suo Non so dove Sono andato a finire Dice Ecco Dice L'appartamento è libero Allora io Come sapevo che era l'abitante Gli dico Ma senti Ma tu hai dove andare a abitare Se no Guardi che mi interesso Perché non volevo Che Poi lo dassi che l'arrestano E poi La colpa è mia Perché l'ho mandato via Di casa Dico Senti Ce l'hai dove No no Sì tutto a posto Non ti preoccupare Tutto a posto Io Lui se ne va Lascia l'appartamento Poi faccio Sare il mio moglie E' finito Non lo vedo più A Buscetta Ma non è che lo dico io Signor Pubblico Ministero E' lui stesso Che al Pubblico Ministero Dottor Falcone Che cosa Cosa ha detto Che dopo questo incontro Dopo questo incontro Che Con me a Roma E' tornato a Palermo Anzi Quello che dice Buscetta Signor Pubblico Ministero Tutto Una cosa differente A quello che io Adesso lei mi dica Come sono andate le cose Quello che ha detto A Pubblico Ministero Devo far perdere un po' di tempo Signor Presidente Perché non è che E' una storia lunga Un pochettino Che cosa ha raccontato A Pubblico Ministero Che quando io Mi sono allontanato Dice Lui Buscetta Mi sono andato Dalla semilibertà Io Andai a Palermo No no Non interessa Non è che adesso Invece deve dire Quello che ha detto Buscetta Eh sì Perché L'epogenia ha detto Tanto Buscetta L'epogenia ha detto Tanto Buscetta Perché E allora io Le devo raccontare Per forza Va bene Dica Allora che cosa ha detto Guardi Io dice Quando Sono andato via Da Da Torino Mi allontanai da Torino Andai subito a Palermo Subito dopo Dice Pippo Calò Mi volle a Roma Perché mi voleva Vedere Allora io sono andato Mi sono fatto accompagnare Da un tizio A Roma E Sono andato Sono rimasto ospite Per una settimana Da Pippo Calò Abbiamo parlato Del più del meno Abbiamo parlato Della guerra di mafia Ma ha detto Che bontate Non è più Quello di una volta Noi stiamo parlando Che lui si riferisce Nel giugno Del 1980 Che Totuccio Inserillo È un bamboccio Perché Che ha fatto uccidere Il giudice Costa È senza ordine Della commissione Allora io Vedendo Questa situazione Dice Io andai subito Dopo una settimana Che sono stato Ospito a Palermo Eh no Dopo giorni Che sono stato Ospito a Calò Sono andato A Palermo A trovare Abbontate E Ho parlato Con bontate Ho cercato Di chiarire un po' Questi rapporti Con Pippo Perché ho visto Che questi rapporti Non erano Come una volta Così abbiamo creato Un appuntamento A Roma In Autogrill Alla uscita di Roma Per andare verso Napoli Ma tutti Li ho fatti incontrare Con Buscetti Con Bontate Lì hanno chiarito Un pochettino E io ho raccomandato Di andare d'accordo Ma poi non so Se l'hanno fatto O non l'hanno fatto Io sono rimasto Loro Bontate In Sanillo Se ne sono andati Sono tornati Un momento a Palermo Io sono rimasto Alcuni altri giorni Ospite di Calò Poi ne sono tornato A Palermo Dopo A novembre Dicembre Ho trascorso Il Natale A Palermo Ospite Dei Salvo E poi Sono andato via Ciò Di Pippo Calò Non ci siamo Lo dice lui Lo dice lui Poi andando Andando Perché poi Mi ha potuto accusare Per i soldi Che ho dato al figlio I dieci milioni Perché questi dieci milioni Li hanno trovati Al figlio Che provenivano Di un sequestro Di persone E allora Questo fatto Me lo accolla a me Perché io sono stato A Palermo Ho dovuto rimproverare Al figlio E allora Perché il figlio Commetteva Era un truffaldino Doveva dare soldi A testa sinistra E allora Io rimproveravo il figlio E allora in occasione Ci siamo Raccontati Altre cose Questa dichiarazione Che ha fatto Non gli è servita più E ha cominciato A fare altre dichiarazioni Che come se Siamo viste altre volte A Palermo Allora io Al dottore Falcone Quando io Sono stato arrestato Ho chiarito Che non è come dice Buscetta I discorsi sono questi Io Questi incontri L'ho fatto A Roma Perché lui Ha avuto bisogno E il bisogno Palera di Buscetta Perché doveva Aspettare La moglie E il socero Dal Brasile Ecco perché Aveva bisogno Dell'appartamento Più grande Ma a me Me lo nasconde Perché se io so Che deve Aspettare la moglie E il socero Io l'appartamento Non glielo do Quello mio specialmente E allora Ha dovuto raccontare Tutto questo Al pubblico ministero Dottor Falcone Tanto è vero Che ha detto Una bugia Signor Presidente Perché Il giudice Dottor Costa È stato ucciso Agosto Lui parla di giugno Cioè due mesi dopo È stato ucciso Il dottor Il dottor Il dottor Il dottor Il dottor Perché non poteva mai parlare A giugno Dell'Officio della Costa Qualche precisazione Così intanto Per orientare anche La cura E queste sono le prime bugie Questo giorno Di Buscetta Quando Le salgo Sì Sicuramente A mese Di luglio Di luglio dell'anno Ottanta Sì Neanche giugno Signor Pudono Estero Neanche Perché io poi Vi scusi Ho cercato di dire Fate un accertamento Se io effettivamente Con mia moglie Sono stato In tale abitazione Perlo Ecco Lei dove Dove era Holiday Inn Lei ha detto che si è allontanato da Roma Per qualche giorno No con sua moglie Ecco Che cosa doveva fare Per quale ragione si è allontanato E dove è andato Ma io Guardi Ogni In quel periodo Andavo spesso No No in quel periodo spesso Spesso no Io in quel periodo Dopo il Nel 77 Sono stato ospite Di Balducci A Porto A Roma A Porto Rotondo A Porto A Porto Rotondo Ospite per una settimana In un appello Dopo Nel 78 Balducci Mi affittò Un appartamentino Nel 79 Ho affittato Un appartamentino Ma ci sono testimonianze Sempre per le vacanze Sempre per le vacanze Io parlo sempre Per il mese di agosto Sempre a Porto Rotondo Porto Rotondo Sì perché Più di là non è che Andavo Nel mese di 80 Io Mi sono interessato io A cercare un appartamentino Per abitare Ma queste sono cose documentate Perché Sono stato passato a setaccio io A Porto Rotondo Per questa Con questa belleggiatura Che io ho fatto E Sono stato io In Sardegna Appunto Come amore Per affittare un appartamentino Per passare Era Ecco perché dico Mese di luglio Perché Sono sicuro di questo Principi Prima di luglio Perché ho dovuto affittare Un appartamentino Per il mese di agosto Non so se mi spiego Ecco Però a Buccetta Non glielo dico questo Perché Non avevo Questa simpatia O questa confidenza Di dire dove andavo E dove andavo Perché lui non lo può dire Perché non glielo ho detto E neanche Mi scusi E neanche io Ho presentato mia moglie Questo è ben chiaro Perché lui dice Sono stato a mangiare al ristorante Sei andato a mangiare al ristorante Se è vero però Questo se è vero Perché Balduccio a me Non me l'ha mai detto Con Balduccio E la moglie di Balduccio Non lo so Ma con me Signor Buccetta E mia moglie Non l'ha mai conosciuto Quindi lei Quando rivede Buccetta a Roma Ci vuol dire esattamente Che cosa sa Della sua posizione giuridica Cioè Ha detto che sapeva Che si era allontanato Sì lui Lui non me l'ha raccontato L'ha raccontato che cosa esattamente Che si era allontanato Della Da Da un permesso Che gli avevamo dato A Torino Dato che stava scontando Una pena definitiva Di una condanna Che aveva di un processo Che ha avuto di un processo E lei cosa sapeva Delle attività di Buccetta? In primo luogo Lei sapeva A capitare Buccetta Sapeva se Buccetta Faceva parte di Cosa Nostra Senta Io a capitare Buccetta Io so Buccetta Che è stato È stato condannato Nel processo Che io Sono stato pure No no Scusi Signor Calò Chiedevo Se all'epoca Nel 1980 Lei sapeva che Buccetta Faceva parte di Cosa Nostra E come faccio a saperlo Se io non ci faccio Se io Se non ci faccio partire Cosa faccio Come faccio a sapere E la sapeva Si è chiesto Ha chiesto a Buccetta Per quali ragioni Aveva commesso Quei reati Per i quali si trovava In quella particolare Posizione giuridica Ma lui C'è uno che si allontana Dalla Dalla Scusi Prego Mi deve scusare Io Quando a me Mi hanno accusato Mi hanno L'associazione Ecco Se noi parliamo Io dal 1963 Sono accostato Coinvolto E mi hanno Spiccato Un malato di cattura Per Associazione Mafiosa Mafiosa Allora non si diceva Scorreria in armi Non si diceva Mafiosa Ma era la stessa cosa Per il processo Di Catanzaro Che poi sono stato assolto Ma per due cose Per due parole Per due parole Sono mancato Cinque anni e mezzo Da casa Per due parole Soltanto Vabbè Lasciamo stare Sono cose antiche Non ne voglio ripetere Lui era stato Accusato Invece Di omicidi Di stragi In quel processo Perché eravamo 114 Io ero imputato Per associazione Soltanto E lui invece Ma è appunto Per questa anche Conoscenza Che ho avuto Con Buscetta Ma lì Ma lì non si parlava Né di 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 Cosa Di Cosa Nostra Non si parlava Soltanto Di Che eravamo Associati In quel processo E basta E Lui è stato Condannato Con un processo Definitivo Però era Lattitante In quel periodo Era Lattitante E' stato arrestato Nel 72 In Brasile Come sappiamo L'abbiamo saputo Tutti E arrestato Nel 72 Aveva avuto Una condanna Non so di quanti anni E stava scontando Quella condanna Quando lui Ha avuto il permesso Da torino Quindi ricapitoliamo Buscetta è una conoscenza Occasionale Degli anni 50 60 Mi dica se Sbaglio Dal 50 A 60 Io Buscetta Lo vedevo Lo vedeva così Per prendere il caffè Certo Poi se lo ritrova Come importato Poi me lo ritrova Nel 1980 No se lo ritrova Però coimputato Nello stesso processo Io non ci sono più In quel processo Perché sono stato assolto Di quel processo Lui ha una sentenza 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 Sì però io Con me non è stato Coimputato nel processo Ma lui aveva Lui aveva dove rispondere Di altri reati Non era Coinvolto con me In quel reati Però era lo stesso processo Non aveva reati in comune Però il processo era lo stesso Quindi eravate Coimputati Sì sì Lui io sono stato assolto Poi In occasione di questo processo Non ho avuto modo Di vederlo Di contattarlo In nessuna maniera No perché Ripeto Io Poi ero libero E lui Era latitante A me Mi sono stato liberato Io nel 1968 A lui L'arrestano In Brasile Nel 70 Ma lo dice anche lui Questo Non è che lo dico pure io Lo dico soltanto io Poi C'era qualcuno Che le aveva Preannunciato L'arrivo di Buscetta A Roma Lei se lo trovò davanti Così all'improvviso Mi scusi Mi scusi È il fratello Che ho io Contatto con il fratello È il fratello Che mi avvisa a me È il fratello Sì 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 Ma questo lui Nel confronto Allora Cominciamo a fare questa Quindi lei con il fratello Ci dice il nome del fratello Di Buscetta Vincenzo Vincenzo Ecco Con Vincenzo Buscetta Lei invece che rapporti ha Intimissimi Fratello Ci dice il nome del fratello Di Buscetta Vincenzo Vincenzo Ecco Con Vincenzo Buscetta Lei invece che rapporti ha Intimissimi Intimissimi Fino a quando Fino a Quando io Siamo stati arrestati Non solo che eravamo amici fuori E' stato pure coinvolto Nel processo di Catanzaro E addirittura Coabitavamo Nella stessa cella Perciò se figur 24 ore al giorno assieme Quindi prima Di essere arrestati Eravate amici Sì sì Che cosa cattività faceva Il fratello Aveva una fabbrica di specchi Aveva una fabbrica di specchi Che lei sapesse Ma quello piangeva tutti i giorni La mattina e la sera Perché gli dava la colpa Di essere coinvolto Gli dava sempre la colpa Al fratello Di essere coinvolto In quell'associazione Che pengeva Dalla mattina alla sera Quindi che lei sapesse L'attività di Vincenzo Buscetta Era solo quella Sì 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 Assolutamente E Vincenzo Buscetta Le diceva Si lamentava con lei Di Tommaso Si lamentava con lei Del fatto che per colpa di Tommaso Si lamentava dopo Cioè quando eravamo arrestati E Vincenzo Buscetta Catanzaro Che stiede con me Nella stessa cella Si lamentava Chi mi ci ha portato Perché Dava la colpa al fratello Dava la colpa al fratello Perché Ma non lo so Perché Perché poi Questo Vincenzo È stato pure assolto Dal processo Cioè praticamente Nella sostanza Il discorso di Vincenzo Perché era Fratello di Vincenzo Buscetta Perché aveva avuto Un rapporto Non lo so Soltanto che Buscetta è stato condannato Ma Tommaso E lui è stato assolto Non perdiamo di vista Stavo chiedendo questo Il discorso che Vincenzo Buscetta Le fa in carcere Sulle ragioni Per le quali Si trovava Ingiustamente Carcerato Ingiustamente coinvolto In un processo Lui Dice La colpa è di Tommaso E così Il discorso Io mi trovo qua Per colpa di Tommaso Sì perché Siccome era mal visto lui Dalla 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 questura Diciamo così A me mi sono stato coinvolto Perché L'accento è perché Lui gli dava lavoro al fratello Il fratello Lavorava con Con Vincenzo Buscetta Lavorava con Vincenzo Nella fabbrica Come operario Senta perché lei Si trasferisce a Roma? Io? Perché Perché per un mandato di cattura Per Un'altra associazione Un altro processo Un altro processo Che poi sono stato pure assolto Che imputazione aveva? Associazione Associazione E qualche altra cosa Che poi Ripeto E questo avviene nel 73 Non mi ricordo Questo avviene nel 73 73 Io ero sorvegliato E mi allontanai Mi andrei a Roma Aprile del 73 E rimane lì a Roma Fin quando viene arrestato Fino a quando sono stato arrestato Viene arrestato a Roma Lei no? Quando è stato arrestato Vole riportare 85 Marzo 85 Quindi in sostanza Lei è stato 12 anni a Roma Ma c'ero stato un anno prima a Roma Perché Perché io Andai subito a Roma Perché dal 70 E 71 71 Io ho abitato A Roma Per un anno Perché avendo un bambino Sofferente Io l'ho dovuto ricoverare In un ospedale In una clinica Alla Dell'immacolata a Roma Ero sorvegliato In quel periodo Ecco le racconto Perché ritorno a Roma Io nel 73 E allora io ho cercato Di avere Qualche Potere Sapere Cercavo di sapere Chi poteva Dove potevo ricoverare Mio figlio Ed essere curato In una clinica specializzata Per quello che aveva mio figlio Allora l'unica persona Che mi viene in mente Di andare a trovare Era Balducci Trovo Balducci E dico Senti io ho bisogno Di ricoverare Mio figlio Qui a Roma Mi sa indicare Lui si è interessato Dice Specializzate per questo Genere di malattia Sono È la clinica Dell'immacolata A Roma Io Ero sorvegliato In quel periodo Ho fatto richiesta Di Avere trasportata Questa sorveglianza Da Palermo A Roma Ho affettato per un anno Un appartamentino In via Una travessa Della via Cristoforo Colombo E sono stato lì Con mia moglie E il bambino Il bambino Lo recuperavamo All'ospedale Lo scivamo Siamo stati un anno A Roma E io andavo Ero controllato Alla Carbatella Ogni domenica Andavo a firmare lì Per un anno Sono stato Poi sono tornato Giusto giusto Il professore Che aveva in cura Mio figlio Disgrazia E allora Andai a Palermo E sono rimasto a Palermo Quando nel 73 aprile Mi fanno Quel mandato di trattura Io mi allontanai E la prima cosa Che ho fatto Andai a trovare A Balducci E ho chiesto Ospitalità a Balducci E lì sono rimasto Ospite di Balducci Fino a quando Fino a che ho potuto Poi trovare Per conto mio L'abitazione Ma per un periodo Sono stato ospite Di Balducci Sente Tutto questo periodo Di sua permanenza a Roma Quali erano le sue risorse economiche? Ma le mie guardie Io Le dico una cosa Nel 1975 Io avevo Un appartamento A Palermo E una casetta In una Periferia di Palermo Campagna Una piccola casetta Io ho venduto Mi è morto Mio figlio Nel 70 Già avevo un'attività A Palermo Una macelleria Per cui Mia moglie viveva E badava A quella macelleria Perché aveva La licenza A quella macelleria E avevamo l'impiegato E perciò A casa mia Eravamo tranquilli Di poter vivere Però nel 1975 Che cosa ho fatto? Ho venduto Mi è morto mio figlio Nel 1975 Io per ragione Così Mia moglie Non voleva Vedere più Quella casetta In campagna Dove ci aveva Abitato mio figlio E voleva Pure allontanarsi Dalla casa Dove Aveva vissuto Pure mio figlio Perché aveva Dei ricordi Troppo brutti E allora Ho venduto Questa casetta In campagna Ho dato incarico Perché io Non abitavo Al Palermo A uno zio mio Di vendere La casetta In campagna E la casa Di questa Dove abitavo io In via Gino Marinuzio Da quei soldi Io Ho ricavato Quasi 60 milioni Così Fra questo e quello Allora Parlavo del 1975 Giusto Allora Che cosa abbiamo fatto Ho cercato di comprare Un altro appartamento Per mia moglie Giustamente Perché non devo stare Sempre così Un giorno tornerò A Palermo E ho comprato Un appartamento Dando 25 milioni In anticipo E il resto muto Il resto La rimanenza Di 60 milioni Circa Mi sono rimasto Inca a me Nelle mani Cosa ho fatto Ho dato a Balducci Senti Io ho questi soldi Vuoi vedere Se mi ripuoi Indistruire qua Posso fare Un'attività qua E così Mi ha messo In condizione Balducci Dice Vabbè Non ti preoccupare Te li investo io Cercherò di farti guadagnare I soldi Per poter vivere E così Io vivevo A Roma Lei Nella sostanza Poi Poi ho fatto una società Mi ha fatto fare una società Con un antiquario A Roma Con un vecchio Un anziano Allora Adesso sarà morto Non lo so Però io Non ne capivo niente Di antiquariato Ma solo Così Per poter guadagnare Qualcosa di soldi È stato in società Con questo antiquario E da questa società Ha ricavato anche Dei Guadagni Dei profitti Beh discretamente Tanto appunto Che io ho potuto Comprare Una proprietà In Toscania Nel 1981 Questi 60 milioni Quando è che Lei li ha 75 Nel 75 Li ha affidati a Balducci Com'è che Lei ha pensato Di affidarli a Balducci Ma io Gli dicevo Ma io gli dicevo Ma che cosa Che cosa posso fare qua Non posso stare senza fare niente Infatti io Per un periodo di tempo Mi ha fatto Beh io Non lo volevo Però io mi sono accontentato Anche di quello Mi ha fatto lavorare In un deposito Ma come impiegato In un deposito Di forniture Di cambi d'auto Ma io E' un economico Che potevo fare Questa vita Senti così così Allora mi chiede Ma tu Un piccolo capitale Che te lo investo Ecco così viene fuori Il capitale Da quella venduta Dove è questo posto Dove l'è No guarda Io non l'ho voluto Non l'ho voluto mai dire Ma non l'ho da adesso Da 15 anni fa Da quando Io Dal primo giorno Nel Marchese processo Non l'ho mai voluto dire Chi era l'antiquario E né Questa società Dove io ho lavorato Ma perché non è giusto Che non solo che Mi davano possibilità Di guadagnare Eppure Lo debbo rovinare E allora non l'ho voluto mai dire Questi nomi nativi Ma ci volete credere Non ci volete credere Io non è che Insisto per farmi credere Ma quindi lei In questa società Lei entrava come Socio occulto Diciamo pure Io ma quasi Ma quasi mai ci stavo Che tanto ci andavo No no vorrei sapere Se lei era proprio socio Ma poi neanche era un negozio Era anche un deposito Non era manco un negozio No parliamo di due cose adesso La società con l'antiquario E il deposito Nel In questo deposito Lei lavorava come dipendente Come dipendente Sì E poi ci sono stati pochi mesi Ovviamente non era In regola Lavorava in nero Ovviamente Perché è data la sua posizione Nel Invece in questo In questa società con l'antiquario Lei era socio occulto Non era Non figurava come socio Voglio dire Senta Ufficialmente So soltanto che Balducci Con quei soldi Che mi aveva fatto guadagnare Perché poi io ho saputo Che dava soldi a interesse Balducci La verità è questa A distanza di due anni Tre anni Io avevo un bel Lo gruzzoletto E che l'ha dato A questo qui E questo qua Per farmi Forse questo aveva bisogno Di soldi Cercava pure soldi Quando lei gli ha affidato I 60 milioni Lo sapeva già Che dava 35 milioni L'ho dato Non 60 35 Era Sapeva già Che Balducci Faceva l'usuraio Sì Perché L'ho capito L'ho capito E me l'ha fatto capire Senta Lei A Roma Usava Il nome di Mario Aglialoro Mario 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 Il cognome di Aglialoro Sì Mario Aglialoro Però Aveva dei documenti Con questo nome Ma guardi Io Questo Quello che usavo Poi ho usato Altri nomi Per esempio Un altro nome Che sono state Sequestrate Sono state Sequestrate A Chiasso E poi Quando mi hanno arrestato Mi hanno trovato Altri documenti Lei quindi ha usato Ma non ho mai Presentato però I documenti Solo In abbergo Soltanto Qualche volta Lei quindi ha usato Documenti Con il nome di Mario Aglialoro E con altri nomi Cioè io Dicevo che mi chiamavo Mario Aglialoro Basta No Le sto chiedendo Una cosa più specifica Se lei era in possesso Di documenti A nome Mario Aglialoro Con la sua foto E se aveva Oppure altri documenti Con altri nomi Io avevo Altri documenti Con altri nomi Ma non Non Mario Aglialoro E c'erano documenti Falsi anche Per la sua moglie Aveva documenti Anche Guarda io Le dico una cosa Io non ho mai voluto Farci documenti A mia moglie Perché non volevo No Quindi solo per lei Quando mi hanno arrestato Purtroppo ho dovuto Fargli un documento Perché dico Perché Allora C'era stata L'accusa Di Buscetta Per cui dico Se dovesse Fermarmi Qualcuno Con mia moglie Il problema È grosso Allora io Senza che le sapesse Niente lei Avevo il documento Di mia moglie Falso Eventualmente Un fermo una cosa Dicevo a mia moglie Sente Il documento Fammi parlare a me Come si è procurato Questi documenti Come? Come si è procurato Questi documenti falsi Se li ha fatti lei Da solo O gli ha dati qualcuno No Io veramente Io ho incaricato Guido Cercola Per avere Questi ultimi documenti Per la verità Quindi lei Prima Incaricavo Quando si aveva bisogno Un qualche documento Incaricavo Balducci Poi dopo la morte Di Balducci Mi sono rivolto A Guido Cercola Tutto quello Che avevo di bisogno Quindi fin quando C'era Balducci Si rivolgeva a Balducci Lei non sa Balducci a sua volta Se si rivolgeva A qualcosa Eh non lo so Non me manco Lo volevo Già che non volevo Sapere altri rapporti Che lui aveva a Balducci E non ho voluto mai Conoscere nessun romano All'infuore di Balducci E ho conosciuto così Per caso Di Otalevi E per caso Ho conosciuto pure Guido Cercola Però poi ho avuto bisogno Perché io Essendo a Roma L'attitante Mi dovevo appoggiare A qualcuno Ma non ho voluto mai Conoscere Dal 73 Fino a che Balducci Era in vita Mai frequentato Elementi Che qua Vengono a testimoniare Che dicono Che sono stato Addirittura con me A mangiare Al ristorante Di rivolgersi A Balducci Per avere Il documento falso Si mi sono rivolto Come mai Ha pensato Di rivolgersi A Roma Non è che conoscevo Ambiente Per cui Di questo genere Per cui io Potevo rivolgere Martizzo Al Cairo E poi La mia mentalità Non l'aveva mai fatto Mi sono rivolto A lui Senti Per un documento Cosa posso fare E così Lei ha conosciuto Non si è barbarossa No Ha conosciuto Una persona Che ha un negozio D'elettrodomestici Vicino alla stazione Termini No Mai No Ha conosciuto Una persona Di nome Santino Ducci 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 No no Assolutamente Ha conosciuto Massimo Carminati E Massimo Carminati Non esiste Non esiste Queste numerative Guardi Lo dico io Né Carminati Né questo Babruciate Così Abbiamo Né questo Mangino Questo Farabutto Che viene a dire Che è venuto A mangiare con me Al ristorante Né questo Babatino Tutto questo ambiente Qua Io non li ho mai Non li ho mai Conosciuti Non li ho mai visti Ne ha bruciate Non li ho mai visti Non li ho mai conosciuti Ma io Non lo so Che devo dire Che cosa devo fare Per farmi credere Senta lei Ha detto di aver conosciuto Però Gaspari Mutolo Gaspar? Gaspari Mutolo Sì In carcere In carcere In 86 Senta Ho visto Vuole che le descrivi un po' Signor Mutolo Vuole che lo descrivi Beh Non lo descrivi Così Anche per dire Che Qualcosa aveva già detto Però L'ha detto pure Che si era accusato Degli omicidi Aveva fatto 14 ordinanze Di custodio cadelare E poi E poi Si sono fatti pentiti Altre E dicono Questo non sa niente Di questi omicidi E li abbiamo fatti noi E si è accollato Si è accusato Di omicidi Poi Si è accusato Di altri omicidi Si è fatto pentiti Un altro Un certo Davide E ha detto Ma questo non l'ha mai fatto Questo omicidio L'ho fatto io Adesso si sa Perché detto da lui Si è fatto collaboratore Perché Ha detto Che ha saputo Che lo volevano uccidere E qua viene a dire Una cosa Sono due cose Che volevo chiederle Qualche chiarimento A proposito di Mutolo Lei ha detto Che Sostanzialmente Nessuno Gli avrebbe mai Raccontato nulla Perché Dice lei Testualmente Noi lo sapevamo Perché vuole Voce carceraria Era in rapporti Con i servizi segreti C'è poco da fare In carcere Purtroppo In carcere È un altro mondo È un'altra vita Chi non c'è stato Non lo può sapere Ma lei Da chi ha saputo Che Mutolo Era in rapporto Con i servizi segreti La rivista O il panorama O Non era una voce carceraria Ma poi guarda Basta leggere Il libro del dottor Falcone E lei troverà Pure tracce Di questo fatto Lei nell'udienza In cui è venuto Mutolo Diceva che era Una voce carceraria Una voce carceraria L'hanno letto L'abbiamo letto E poi C'è stato Un comandante Un capitano Un colonnello Dei servizi segreti Che è venuto A testimoniare Lì Dottor Fabri Mi pare che si chiama Questo qui È venuto a testimoniare Ha detto i rapporti Che aveva con Mutolo Cioè Cosa gli devo dare Cosa gli devo dare In cambio Facendoci Non lo so Se doveva fare Arrestare Qualche Qualche terrorista E in cambio Non so che cosa Voleva Mutolo E poi Signor Presidente Signor Puglumestero Ha fatto fare Pentito Questo era lì Una voce Ma già l'abbiamo capito Perché basta leggere Le dichiarazioni Che ha fatto il nipote Ha fatto fare Ha convinto Il nipote Di farsi Collaboratore Per farsi Scaggionare lui Infatti Il nipote Si fa sentire Dalla corte Si fa interrogare Dalla corte Dicendo Mio zio Non c'entra niente Io sono stato Io Avevo rapporti Con questo Straniero Non l'hanno creduto Perché è stato Condannato Quello stesso Signor Mutolo Però Ha tentato Ha fatto pure Questo passo E tanto Tutti L'abbiamo capito Che cos'è Allora Quando dice lui Quando dice lui Il tizio Lui non può dire Che gli ho raccontato Dove niente Perché non l'ha mai detto Non credo che lo possa dire Però Ma chi ha qualcosa Da raccontare A uno Che già si sa Che ha avuto rapporti Con i servizi segreti Perché si possono avere I rapporti Con i servizi segreti Scusa Non per Per rapporti Insomma Uno che è un pregiudicato Che sta sempre in alera Perché io non so Quando è stato libero Questo qua Perché era sempre Quello che è venuto a dire qua E che ha detto In altri processi E' stato E' nato forse in carcere Questo qua E' rimasto sempre in carcere E' stato fuori Forse per pochi mesi E poi rientrava Sempre in carcere E quei tre o quattro mesi Che era fuori Sapeva tutto Il tutto Che gli andavano a confidare A confessare A dire a lui Tutto quello che succedeva A Palermo Lei è stato arrestato A detto quando? 1985 L'ultimo 1985 E Sua moglie Dove svolgeva Un'attività di lavoro Dopo che lei è stato arrestato? Sì ma io di questo Ne volevo parlare Perché poi Ne volevo parlare Per quanto riguarda Le dichiarazioni Che ha fatto il signor Cangemi Dell'attività di mia moglie Vuole che ne parla adesso? Prego Cangemi Dice che Parla sotto capo Consigliere Non sa dire Non sa dire Quando questa Perché vede Ogni volta che io Viene un collaboratore Dice che fa parte di questa cosa Che Specialmente questo Cangemi Che dice che ha fatto parte Io sono Il capomandamento Il rappresentante Lui è consigliere Sotto capo Quando io gli faccio la domanda Sente Ma quando è stato Quando è stato Quando è stato Che io ho fatto parte Di questa commissione Nel 1986 E 76 Allora Dobbiamo buttare a mare Le dichiarazioni di Buscetta Dobbiamo buttare a mare Le dichiarazioni di Contorno Dobbiamo buttare a mare Le altre dichiarazioni Che fanno altri collaboratori Se tu se fai parte Di questa E poi Altri collaboratori Che vengono Abbiamo partiti Dal fatto Della Allora Parliamo di quello Che interessa Questo processo Però adesso Poi parliamo di altre cose Che cosa è venuto a dire In questo processo Cangemi Io ancora non lo so Perché sono in questo processo Io vorrei che Averlo spiegato Allora parliamo di Cangemi In generale Allora però Parliamo un attimo Scusi Visto che facciamo Un interrogatorio Faccio fare una domanda Lasciamo stare Questo discorso No aspetta Questo mi interessa Dire questo No no Facciamo Affrontiamo questo discorso Che dice lei Lei quando l'ha conosciuto Cangemi Ma io non lo conosco Cangemi 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 ha detto Che lui faceva il macellare Fareva una macelleria Io ho gestito per quattro anni Una macelleria a Palermo Del 68 Fino al 73 Con la licenza a memoria Io gestivo una Una macelleria Lì presente La mattina e la sera Perché ero pure sorvegliato Per cui non è che mi potevo muovere Non potevo neanche La sera dovevo rientrare Alle 8 Alle 9 Forse Prima alle 8 Poi ho dovuto Fare un'istanza Per avere Il permesso fino alle 9 E non potevo uscire Prima delle 7 Mi avrà conosciuto al macello Mi avrà conosciuto per via Perché quando hanno arrestato Franco Ascrima Francesco Per il sequestro Cassina A me mi hanno arrestato pure Perché avevamo la macellare vicino E l'immagine Fotografia del giornale L'attività che svolgevo io In quel periodo Insomma Io a Palermo Ero conosciuto come Come vorrei dire Ero conosciutissimo Per dire Per la sua attività L'attività lavorativa Sportiva Per Giudiziaria pure Perché pure anche questa Il mio nome lì Palermo non era a Roma La città è molto più piccola E allora ci conoscevamo tutti Allora Però Cangemi Lei non l'ha mai conosciuto Ora magari La nuova È finita Ma quando parlo del periodo Io Parlo del mio periodo Ci conoscevamo quasi tutti A Palermo Senta Cangemi quindi Lei non l'ha mai conosciuto Fuori no Cioè Potremmo che lui conosceva me Ma poi Io a lui Non l'ho mai Conosciuto Non si dico Nemmeno per sentito dire Come persona che Aveva una macelleria A Palermo Assolutamente Assolutamente Visto che Palermo ha detto Lei non è Roma Macelleria lui Macelleria lei Appunto dico Solo così Non l'ha potuto conoscere Senta Ma torniamo al discorso Ma il mio nome però è conosciutissimo A Palermo Torniamo al discorso Ecco Sua moglie Come si Si mantiene poi Dopo quando lei va in carcere Che attività svolge Fino nell'85 Noi abbiamo avuto La macelleria E poi continua E poi mia moglie Ha avuto Ha fratelli Ha sorelle Adesso Vuole sapere Ha sorelle Ha fratello Il fratello è morto Quindi è stata aiutata dai famiglieri A mia sorella A mio fratello E la aiutano E la aiutano fino a tutt'ora Non è che Senta una cosa che volevo chiederle Tornando a Mutolo adesso È questa Lei Dice di averlo conosciuto In carcere nell'86 Così A chi? A Mutolo Sì E A Palermo Carcerato Eravamo nella stessa sezione E lei dice così Guardi Le leggo proprio quello che ha detto lei Quell'occasione In cui io l'ho conosciuto Dopo alcuni mesi Senza avere mai avuto rapporti In nessun genere Mi ha chiesto un favore Dicendo che aveva i bambini Senza scarpe La famiglia di Giuna Non sapeva come vestire i bambini Io mi sono un po' immedesimato Mi ha meravigliato di questo discorso Io ho detto Beh quando si tratta dei bambini Di cosa è bisogno Di cosa ha bisogno anzi Avrei bisogno di comprare queste cose Non ho possibilità Ebbene io ho detto Il signor Mutolo Vada in un negozio Mi dica qual è il negozio Che io mando i miei E le vado a pagare il conto Ecco chi è che le ha mandato A mio cognato A suo cognato I miei quindi sono suo cognato Certo Che posso mandare? Ma suo cognato Che aiutava già Sua moglie Aiuta anche Mutolo Lei ha conosciuto Quando uno è carcerato Guarda che carcerato C'è una solidarietà particolare Fuori forse Se uno ha bisogno Qualche cosa Credo che magari Uno passa dritto Ma che in carcere Chi vive in quell'ambiente Se uno chiede una cosa Uno se lo toglie dalla bocca Per aiutare un altro Perché purtroppo Il mondo è tutto differente Non è fuori Senta Lei ha conosciuto Stefano Bontale? No Mai No 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 Gatano Badalamenti Mai assolutamente mai Anche se siamo stati Coimputati nel processo Di Catanzaro Perché lui è stato arrestato Perché Poldelli dice Ma voi siete stati arrestati E avrete lo stesso processo No Lui è stato arrestato Dopo che io sono uscito Da Catanzaro Per cui non ci siamo potuti incontrare Gli atti di tutti i suoi processi Le ormai li conosce Anche qui per risparmiare tempo Di tutte le persone indicate Come componenti della commissione Lei chi C'è qualcuno Non ha mai visto Né conosciuto nessuno Non ha mai visto E io per questo mi fa rabbia Che io non sono stato mai Potuto Ascolto Nessuno Nessuna corte d'assise Ha fatto accertamente A quello Lei mi accusa Che faccio parte Perché lo dice Buscetta Allora io Su quello che dice Buscetta Io Facendo parte della pubblica Dice 75 Si sta accodando agli altri Perché lui spera Che nel 75 Da 6 Queste persone Sono libere E possono essere Possono fare Si possono riunire Non dice più Però Dobbiamo andare Alla partenza Quello che ha detto Buscetta Non è mai questo processo Senta Angelo Consentino L'ha mai conosciuto Non l'ho conosciuto Lei mi ha avuto occasione Di accennare A Guido Cercola Si Ci dice Quando l'ha conosciuto In che occasione Quali rapporti ha avuto A me me l'ha presentato Sempre Balducci Poi Mi diceva che Balducci mi diceva Che era un bravo ragazzo Quando io E quando è morto Domenico Balducci Allora Tutto quello Che avevo di bisogno Infatti Quando ho acquistato Un appartamentino In via Cassia Io l'ho chiesto a lui Quando sono stato ospite In via In via Del babbuino In un appartamento Per due mesi Io l'ho chiesto a lui Quando io ho comprato L'appartamento Della via delle carrozze Guarda signor Presidente Non è che l'ho comprato Tutte cose Si dà a pensare Dice Faccio io Quest'elenco Via Cassia Via Babbuino Cioè Babbuino Non sono io Il proprietario Via Cassia Era un appartamento Di un vano Che Non so se Scusi Dicevo io Sto facendo Questa indicazione Abitato In via Cassia Via Babbuino Via delle carrozze Non è che io Ho abitato E facevo Ed avevo Ero proprietario Di questi appartamenti Tutti in una volta Via della Babbuino Non ero io il proprietario Sono stato ospite lì Per due mesi Per un motivo specifico Ospite di chi? Di questo appartamento Della via Di questo Che il proprietario Era la moglie Di cosa? Di Di Otalevi La moglie di Di Otalevi Ma questo è una cosa Per il processuale Sì sì Già Come si dice Passate a setaccio Dobbiamo fare un passo indietro Per forza dobbiamo fare un passo indietro Sì Io A un certo punto Quando mi libero Dal processo Che avevo Che ero Stato accusato Da Un certo Vitale A Palermo Vitale Si chiamano Sì L'Occio Vitale Sì In 1980 Io Sono stato assolto Ed ero passo libero Avevo solo da scontare 8-10 mesi Di sorveglianza speciale Questo Vitale Lei lo conosceva? Eh? Questo Vitale Lo conosceva lei? Vitale scusi Si chiamava Vitale Sì Leonardo Vitale Lo conosceva lei? Ma non solo che lo conosceva Era parente di parenti Era un parente acquisito Era suo parente Cioè Lui era l'ipote Figlio di una sorella Di uno Un zio acquisito Che aveva sposato Ecco Il fratello della mamma Aveva sposato Una zia Mia Una zia mia E perché questo lo accusava? Lei lo sa Ma guardi Ne parliamo di Di proprio Di questo Non lo so Sto stando che Sono stato assolto Non perché lui Era pazzo Non perché era pazzo Ma perché Non c'erano stati riscontri A quello che lui diceva No no guardi Non c'è stato qualcuno Però che ha detto Che era pazzo E allora la sentenza Non l'ha letta Avvocato Allora signor Presidente Scusi Faccio richiesta Di Venga Come si dice Come si dice La parola esatta Tecnicamente Acquisita Questa sentenza E vediamo Quali sono le motivazioni Di questa assoluzione Non perché era pazzo Diceva Perché I riscontri Non c'erano il riscontro Non c'erano il riscontro Però ha fatto Ma poi Mi scusi Mi scusi No mi scusi Che era pazzo È una cosa Ma è vero o no Che era pazzo Ma guardi Io so I problemi che aveva Che aveva questo ragazzo Perché me lo diceva Lo zio I problemi che aveva questo ragazzo Che non era mai costante Era così E poi Ha accusato Non che ha accusato Forse in carcere Non ce l'aveva mai stato Quando venne arrestato Per quel sequestro Di Cassina Perché lui aveva detto Che aveva prestato la macchina A Franco Scrima Questo O si è visto carcerato Si è visto So So soltanto Che da quel momento in poi A lui Io non l'ho visto più Perché È uscito dal carcere Poi l'hanno ricoverato Lo portarono In Sardegna Non si è allontanato Non so Se l'hanno portato Come confinato Adesso L'hanno ricoverato Subito In un ospedale Ma lì si è saputo Che si mangiava Le fece degli ammalati Insomma Dice uno Ma pazzo Ma bisogna vedere Perché la pazzia Bisogna un certo punto Se uno fingeva Di essere pazzo Ma addirittura Mangiava le fece Beveva L'orina dei malati Non so se 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 questo Per quello che io ho saputo Da mio zio Diceva che I suoi familiari Non potevano andare in bagno Si dovevano chiudere il cavo Perché Lui cercava di andare Insomma Capisci Di che cosa lo accusava Vitale? Che io ero Facevo parte Di un'associazione Non di cosa nostra Facevo parte Di un'associazione Che io ero Il capo Di questa associazione E vale a questo Anche del sequestro Di cui era accusato No no Non ho mai parlato Lui del sequestro Non mi ha mai Non mi ha mai Accusato E a parte il fatto Di essere pazzo Lei non sa Altre ragioni Per le quali Poteva accusarla Ingiustamente Ma io Perché Perché Non era Non era Non era Non era Mentalmente Idoneo Potere fare Queste dichiarazioni Assolutamente Per quello che io Avevo saputo Per quello che lui Lo sai che cosa faceva Io ho fatto venire A un cugino Più diretto A questo processo Appello Lo sai che cosa faceva Loro abitavano In una casetta In campagna In campagna La mamma aveva Una gabbia Con le galline Lo sai che faceva Se ne andava lì Dentro a mangiare Assieme con le galline Perciò si figura Senta lei Lei lo sa Entra libero Perciò si figura Se era pazzo O non era pazzo Vuole ricordare La corte Che cosa Che fine ha fatto Vitale Eh Quello che ho saputo Che l'hanno ucciso E l'ho pagato pure io Questo cosa Io ho pagato pure Questo omicidio Per le dichiarazioni Di alcuni collaboratori Senta Non conoscendo Tutte queste persone Per questa indicazione Di questo collaboratore Senza nessuna prova Per cortesia Signor Calotto E lei anche lei Avvocato Calasso Poi avrà modo Di interrogare L'imputato Quindi Se dovrà fare domande Lei dopo le farà Adesso è inutile Che interveniamo In una polemica Che non è Prego Prego Pubblico Ministero Senta Lei Le chiedevo Anche se la domanda Può sembrare Superflua Lei della vicenda Del sequestro Dell'onorevole Moro Si è mai interessato Mai interessato In nessuna maniera Non ha nemmeno espresso Chiglioni in proposito Ma Assolutamente 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 Non ha avuto modo Di conoscere Orientamenti Assolutamente Guardi Io Non mi sono mai Interessato di politica Non mi sono mai Interessato mai di niente Lei ha conosciuto Ettore Maragnoli Chi? Ettore Maragnoli Assolutamente no Ha conosciuto Franco Giuseppucci No Assolutamente no Mai Una persona Niente 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 Mai visto Mai sentito Io Questi nomi Li sto sentendo ora Processualmente In questo processo Lei non ha mai Organizzato O condotto Un gioco d'azzardo A Roma Ecco io per questo Vorrei fare un po' Il confronto pure con Buscetta Perché qua c'è un fatto Buscetta parla di Deorema Hanno creduto a Cassazione Ha creduto il teorema Buscetta O è fasso il teorema Buscetta E non dobbiamo credere A questi collaboratori Che sono venuti qua Oppure sono fatti tutte e due Sia Buscetta Sia il teorema No però io l'avevo fatto Una domanda Che potete rispondere Io non ho mai Non so giocare Neanche a scopa Si immagina un po' Quindi non ha mai E ho sempre odiato A chi ha il vizio delle carte Guardi che si può organizzare Un gioco d'azzardo Mi dispiace Anche senza giocare E odiando di più Sì 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 ma guardi Io ho Si può offendere Chiunque Chi ha il vizio Se si gioca per Deporto Deporto va bene Ma chi ha il vizio Che non può fare a meno Di giocare alle carte Io l'ho sempre odiato A questa gente Quindi no Non l'ha mai No assolutamente no Ha mai conosciuto Flavio Carboni? Flavio Carboni? Qualche volta L'ho incontrato Sì In quale occasione? Ma Adesso Non lo so dire Non glielo so dire In che periodo Per esempio? Ma 78 79 80 Non me lo L'ha incontrato a Roma? Sì mi pare che L'ho visto Incontrato Con C'era però In vita Domenico Balducci Senz'altro E lo ha incontrato Insieme a Balducci? Sì Ma guardi Se mi dice In quale occasione Non glielo so Non me lo ricordo Lei cosa Sembra averlo visto Qualche altra volta In Sardegna Ma ha incontrato così Nella piazzetta Di Porto Rotondo Perché Chi va a veleggiare lì A Porto Rotondo Sì tranquillo Se non è oggi O domani Si deve incontrare Quindi lei quando l'ha incontrato In quel periodo In quel periodo Quando l'ha incontrato a Porto Rotondo Lo aveva già incontrato Lo conoscevo di vista Quindi certamente L'ha conosciuto a Roma Sicuramente Che cosa A parte l'averlo incontrato Così Averci parlato Ha avuto mai Delle attività economiche Finanziarie Di affari Io Io direttamente con lui Non ho avuto mai A che fare Con un'attività A un'attività Neanche indirettamente Poi se Balducci Avrà inventato qualcosa Di sua iniziativa Non lo so Però io Ripeto Con lui Non ho avuto mai Rapporti Nessun buono Le attività in Sardegna Ne hai mai avute Mai Mai Di nessun genere Mai Mai Ma qua Guardate Non è che lo voglio dire io Perché qua Fino avanti C'è un processo a Roma Fino avanti Hanno ascoltato Hanno sentito Il 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 commercialista Della società Tutti dicono Che io Soltanto perché Un costruttore Che si chiama Si chiama Faldetta Che Lo io conoscevo A Palermo Perché venne a fabbricare lì Che poi So che questa Costruzione Gli andò male Ci ha rimesso pure soldi Questo Faldetta Solo perché Io conosco questo Faldetta Bene Io diventai Socio Di mezzo a Sardegna Tutto quello che si è costruito A Sardegna Forse forse Sono Proprietà mia Quindi lei Faldetta E allora Questo commercialista Ha spiegato Che io Non ero interessato A questa società Soltanto È venuto una volta Si è visto che Io ero interessato A una villetta Che si stava costruendo E dice che Io ero interessato Perché Ha detto Questo non mi piace Perché io avevo detto No questo non mi piace Questo non mi piace E poi Di altre cose Non è stato mai Interessato A nessuna società E questo è il commercialista Che lo ha detto Un mese fa A Roma Nel processo di Roma Poi sono stato passato A setaccio Di queste società A Sardegna Perché Quando a me Mi hanno arrestato Nel 1985 La prima cosa Che hanno fatto A Roma Si sa che cosa Pensavano di trovare In me Subito Subito Mandate di rattura Associazione 18 società Hanno sequestrato Che poi Io non avevo Nessuna società Tutte queste Soltanto quella Che poi L'ho pure venduta Quella di Tuscania E poi Tutte queste società A me Non mi interessavano Niente Di fatto poi Chiarito le cose Chiarite le cose Le hanno restituite A tutti i propri Uniti E chi riconosce No Questa unica società Quella che io Con Balducci Mi ha fatto il piacere Di acquistare Perché poi Ecco Volevo spiegato qui Volevo spiegare un momento fa Questa Quando nel 1980 A me mi assolvono Della Associazione Con le accuse Di Vitale Mi assolvono Allora io ho detto questo Ma io Che ci vado a fare A Palermo A fare Normalmente Il macellario Ora Me ne sto Qui a Roma Vediamo di trovare Una piccola proprietà Posso Scusi Scusi Trovare una piccola proprietà E vedere Potere fare un allevamento Di bestiame Sapevo che Il mio cugino Franco Scrima Si doveva Liberare Da poco a tempo Dovevo fare poco 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 Un 1-2 anni Dico Lui è pratico Vediamo se io posso fare Un allevamento Di bestiame Avendo le macellerie A Palermo Possiamo fare Dal produttore Al consumatore Volevo creare Quest'attività A Roma Io dico Mimmo Senti Io sono libero Ormai Del processo Mi fai La cortesia Mi vuoi vedere Se poi trovando Una piccola proprietà Dove io posso fare Un'attività Io con lui Siamo Che cosa abbiamo fatto Abbiamo fatto Diciamo Andiamo a cercare Sai che ogni volta Ogni settimana Esce A Roma Un Un giornale Dove Adesso Non so come si chiama Adesso non mi ricordo È il nome di un mercato È un nome di un mercato La Pulce Porta Porta Di lì Abbiamo cercato Un mercato La Pulce Che ne so Cosa di questo genere Porta Porta Ad ogni volta Abbiamo cercato Trovare una proprietà Da queste proprietà Abbiamo telefonato Parecchi proprietari Questo non mi piace Questo non mi piace Giusto giusto Ma in uno che abbiamo Trovato Si è messo a contatto Lui Ed era Padrone di questa proprietà Spuro Oberdan Un certo Spuro Oberdan Dico io Questo Mi dice Questo io lo conosco Ora lo vado a trattare Vediamo qual è Siamo andati A Tuscania A vedere questa proprietà Proprietà a me Mi è piaciuta Era un po' distante Da Roma Dico ma A me piace E abbiamo trattato Questa proprietà La tratta Balducci Io non la tratto Per la verità Io Il rapporto con questo Con questo qua Non ne ho avuto Non le ho avute Il rapporto Le ha avuti Balducci Mi fa acquistare Questa proprietà E l'acquisto Di dare a Roma Che pure Avendo quegli Otto mesi Di sorveglianza speciale Io ho detto Ora cercherò Di farmele a Roma Questi otto mesi E così Poi mi libero E rimango qui a Roma Tranquillamente Di fatti Io che cosa ho fatto La prima cosa che ho fatto Io non mi vado a presentare Faccio intestare Questa cosa a mia moglie Questa proprietà A mia moglie Dobbiamo fare la denuncia Che mia moglie Ha acquistato Questa proprietà A Toscana Io la vedevo così Sicuramente Appena sentiranno Mattaliano Rosario Chi è? Moglie di Pippo Calò Noi Pippo Calò Lo cerchiamo Perché È ricercato L'andiamo a Ciovare Bene Io per tutto il tempo Che sono stato due anni A Due anni e mezzo A Toscana Nessuno Aspettavo Garabinieri Un momento all'altro Che venisse Senta lei Pippo Calò Senta lei Ha otto mesi Nove mesi E io dico Sì Me le faccio qua Dove l'indirizzo Faccio credo La residenza Questa era la mia Opinione La mia Il mio programma Mentre Cosa succede? Che nel 1983 Nessuno si è visto Fino nel 1986 Un Confinante Un confinante Di quella proprietà Mi manda Dal tribunale Subito dopo Che cosa ho fatto? Abbiamo fatto la società Agro 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 Rose Non mi ricordo A nome sempre Come Come Presidente Sempre mia moglie Di questa società Lei utilizzava sempre Quei 35 milioni Che aveva dato Ma quelle Parliamo di 75 in poi Vuole che 35 milioni Io ho acquistato Questa proprietà In tutto Che è costata 250 milioni Ecco così Le dico qua Ma lei è partito Da lì Dei 35 Dei 35 milioni Sì sì Ma ne avevo di più Anche qualcosa di più Avevo di 150 milioni Con quello che mi ha fatto Guadagnare Balduccio E non E non Traffico E non Traffico Lasciamo stare Anche perché io Non sapevo Che si potesse Guadagnare Tanto Anche Perché Lo sapevo Che cosa faceva Balduccio Il signor Polo Ministero E non E non Che io Me la Non nascondo Qua E allora Cosa fa Questo Ha chiesto Mi ha Mandato Dal tribunale Ha mandato Dal tribunale Un diritto Di predazione Perché si vede Che Questo proprietario Non Ha Non ha Come si dice Non Ha chiesto Ai vari Confinanti Se erano Disposte Perché C'è la precedenza A quelli che sono Confinanti A queste proprietà Di Se acquistarle Loro Oppure no A questo proprietario Non gli ha fatto La proposta E mi manda Dal tribunale Perché non gli ha Chiesto Questo diritto Di predazione Perché voleva Acquistare lui La proprietà A questo punto Io gli dico Cosa faccio Cerco Balduccio Cerco Mimmo Cerco Non posso Cercare più Balduccio Perché è morto Cerco Guido Cerco Dico Sente Che sapevo Che lui Conosceva pure Guido Cerco Sente Vedete Che succede Questo Qua L'amministratore Mi sta dicendo Che c'è Un proprietario Confinante Che vuole Il diritto Di predazione Che cosa Io Se la proprietaria A questo punto Non mi interessa Più Perché posso Combattere Io Con Tribunale Cosa Allora Ha parlato Con Il vecchio Proprietario Spuroben Il proprietario Dice Guarda Il torto È mio Io Questa proprietà Me la riprendo Indietro A me non mi è dispiaciuto Che se l'è presa indietro Sa perché? Perché io pensavo Che io con mia moglie Potevo abitare In quella proprietà Perché mia moglie Purtroppo Purtroppo Che soffriva Era stata operata A DNA a disco Lì in quel posto C'era un freddo La sera Non si poteva Veramente resistere Tanto è vero Che nell'81-82 Mese di dicembre Gennaio Io ho dovuto chiedere A Guido Cercola Un appartamentino Per abitare Quei due mesi Tre mesi Di freddo Ecco perché vado A abitare In via In via del Babuino Io devo chiedere Scusa signor Presidente Però Le parole sono Come le frago Insomma Più se ne parla Più le cose vanno avanti Devo parlare di queste cose Perché Per avere un discorso logico Nelle mie dichiarazioni Allora io Che cosa ho fatto A me Mi è stato bene Che Mi andò bene Che lui si prendesse La proprietà indietro Si è presa la proprietà indietro Che cosa faccio Con quei soldi Acquisto un appartamento Sempre Con l'interessamento Di Guido Cercola Acquisto un appartamentino In un residence In via Nelle Corso Francia No Via Cassia In via Cassia In un residence E sto Siamo lì Sì vabbè Odoltre Via Cassia E abito lì Per qualche annetto Otto mesi In questo frattempo Che abito In questa residenza Io dico Sente Mimmo Non è Non si può abitare Marito e moglie In un solo vano Mia moglie Magari la facevo andare A Palermo E ritornare Ma insomma Era troppo piccolo L'appartamento Ho deciso Io ho cambiato Idea Io voglio abitare A Roma Mi trovo Un appartamento Però questa volta Io lo voglio In via In centro Allora Si interessa Il giuguito Cerco E mi trova L'appartamentino Di via Delle carrozze E acquisto Questo appartamento Da quel momento in poi Acquistato Questo appartamentino Vado a abitare In via Delle carrozze Fino a quando Mi hanno fatto Il mandato di trattura Di Tommaso Buscetta Come lì Già mi conoscevano tutti Diviso A mia moglie La conoscevano tutti Che cosa ho dovuto fare Scappare di notte Come dire Di lì Non mi sono più mosso E sono andato a abitare Mi fece trovare Un altro appartamento Sempre in via Di Trollivio Sempre da Guidocercola Per allontanarmi Di via Delle carrozze Perché Avevo paura Di che qualcuno Mi riconoscesse E questa è tutta La storia Mia Fino a quando Mi arrestano Lì in via Delle carrozze Carboni è una persona Che lei ha visto Solo due o tre volte Due volte Non di più Sapeva qualcosa Delle attività No 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 Carboni che lei sappia Poteva sapere qualcosa Di lei Senta Tutto quello che dice Carboni Io Le dico A questo punto Io non Non voglio dire niente Perché Che cosa devo dire Devo smentire Carboni Devo smentire A chi Non lo so Si parla di soldi Avuti da 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 Mio Per Delle società Per Un affare In Siracusa Io di queste cose Non ne so niente Non voglio neanche Soffermarmi Non mi dica niente Perché io di queste cose Ne sono all'oscuro Se poi Balducci ha trattato O con Faldetta O con altre persone Ma l'unica persona Che parla in metano Che può trattare Balducci Può essere solo Solo Faldetta E non altre persone Perché lui Ripeto All'infuori di me Fino a che io Io vedevo Balducci E quella presentazione Che ho fatto A A Cosa Di Bontà Di Buscetta Lui non credo Che conosceva altre persone Avrà conosciuto Balducci Avrà conosciuto Buscetta Per in quell'occasione Faldetta Per l'affare In Sardegna E un certo Di Gesù Perché forse Lavorava Ma non O come impiegato O come interesso Con Faldetta E poi Non so Non ricordo Altre conoscenze Non so Altre conoscenze Di Balducci Con altri padermitani Senti Evidentemente Sconosco Balducci Conosceva la sua posizione Certo Ma ci conoscevamo Purtroppo io l'ho conosciuto in caccia La sua si è Aiutata anche per i passaporti Che lei sappia Carboni Sapeva La sua posizione Sapeva chi era lei Sapeva chi era Ma assolutamente Ma guarda A Roma Il mio nome lo sa quando spunta Che mi chiamo Pippo Calò All'infuori di Balducci No a parte il nome Sapeva che magari Che era Ricercato Che aveva dovuto Cambiare identità Carboni Sapeva questo Ma assolutamente Nessuno Non solo Carboni Senta Sono proprio un mistero Il nome mio Pippo Calò Nasce Il primo a saperlo È Guido Cercola E lo sa Quando muore Balducci Fino a che Balducci In vita Nessuno sa che mi chiamo Pippo Calò Sa che mi chiamo Mario Mi conosco tutti Signor Mario Maraglia loro Va bene Ma Signor Mario Quando muore Balducci Il primo a conoscere Che mi chiamo Pippo Calò È Perché ho avuto bisogno Di essere Di appoggiarmi a lui Ed è Cercola E neanche Dio Dallevere Dio Dallevere Non lo sa neanche Che io mi chiamo Poi Giustamente Quando A me Mi fanno il mandato di cattura E mi arrestano Allora Tutti sanno che io Mario E allora E la Pippo Calò La conosciuta in carcere In che epoca Balducci? Il 54 A carcere Luciardone Io sono stato lì Arrestato per due mesi E poi sono stato Sono uscito E lui è rimasto lì E siamo stati Nella stessa Nell'infermeria Del carcere Luciardone Io dormivo Accanto a lui Siamo fatti amici lì E poi La volta Quando lui Quando io sono uscito Gli ho mandato qualche cartolino Quando lui è uscito Mi è venuto a trovarmi Insomma È rimasto Questo rapporto Di amicizia Fino dal 1954 Senta Lei ha conosciuto Una Persona Di nome Pellicani Che è venuta Anche qua A deporre Non so se Però lei è presente Mai visto Mai visto Questo Pellicani Io Mai visto Questo Pellicani Mai conosciuto Lei frequentava Il ristorante Che è qui Il carrettiere Qualche volta Ci sono andato a mangiare Con mia moglie E con Balducci E con la moglie Di Balducci E basta Solo con queste persone Sì 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 basta Non c'è mai andato con Carbone Assolutamente Ah poi Ripeto Il fattore di conoscere Balducci C'è una conoscenza di Carbone Potrassi che me l'ha fatto conoscere in questo ristorante Carbone Balducci a Carbone Non lo so Non lo so Non me lo ricordo Ma io l'ho conosciuto Cioè me l'ha fatto conoscere Me l'ha presentato qualche volta Balducci Questo non lo posso negare Senta ma di queste operazioni finanziarie Di cui abbiamo già detto prima Non sono interessato Lei non è stato interessato C'è parla per il porto di Siracusa Ma io non sono Per lo meno Che le ricordi se ne è parlato di questo Con Carboni Ma io le sento parlare solo quando Nel 85 mi arrestano E mi accusano di questa associazione a Roma Che poi sono stato assolto E lì sento parlare di questi rapporti Di questo carbone Tutto quello che poi venne fuori E che poi io non c'entravo niente Tanto è vero che mi hanno assolto Quindi direi che col carrettiere è andato qualche volta con Balducci Può essere che lì abbia Che sia stato presentato questo carbone Ma non sono sicuro Non sono sicuro Ma non è andato lì di proposito Con carbone Comunque sia nel caso è stata una presentazione Occasionale Se mai è occasione Però guarda Non è che sto negando Che Balducci mi ha presentato Perché tanto è vero che Quando io lo incontro E lo rivedo a Portolotondo E una piazza Lui saluta Io lo saluto Cioè allora non è che io Potrei dire che non l'ho mai conosciuto No Io forse me l'ha presentato No me l'ha presentato E io tanto è vero che l'ho riconosciuto Quando l'ho visto in Sardegna Buongiorno e buonasera E basta No perché vede questo Pellicani Dice che Dice che vi siete conosciuti Lì da quel carrettiere Ma poi dice anche Che anche lì avete parlato Di questo Pellicani è pure presente Lì da c'è Mi sembra strano Che si ricordi Di una persona Che ha visto una volta Allora Lasci perdere Allora Ma ne ha detto tante fesserie Questo Pellicani Ne ha detto tante Non è che Ne ha detto tante stupidaggini Pellicani Non è che Ha detto solo questo Ha detto che una volta Mi ha visto A Qui non l'ha detto O a Roma Non l'ha detto Ha detto una volta Lì a Roma Nel 35 Nel processo Che ho avuto Che mi ha visto una volta A Freggene Lontano Tanto che l'ho Mi ha riconosciuto Insomma Mi ha detto tante fregnacce lì Il signor Pellicani Senta Questo appartamento Dove lei ha ospitato Buscetta Dove si trova? In via Aurelia Via Aurelia Piazza Ernerio Piazza Ernerio Piazza Ernerio Inizio della via Aurelia Piazza Ernerio È un po' più in là Di chi Di chi era Questo appartamento Questo appartamento Io era mio Però L'ho fatto acquistare Per me A cosa A Faldetta E intestato A una società A una società E Che erano Fratelli Bellino Bellino Sì sì Perché poi Dispeto Sempre Questa società Me l'ha creata A Faldetta Però è la Faldetta In sostanza Che si è occupato Si è occupato Poi Però L'ho comprato Sì in contanti Che Che ha scompito Con il mutuo E poi l'ho rivenduta Dice che rapporti ha avuto Con Dio Talleria L'ho conosciuto in Sardegna A proposito Di questa ospedalità Di Balducci E lui era lì A villeggiare E qualche volta E' venuto a mangiare Ecco l'ho conosciuto Perché è venuto a mangiare In questo ristorante A Pergo Il ristorante Di Porto Rotondo E' venuto a mangiare là E' avuto Presentato Balducci A Dio Talleria Da Balducci C'era la moglie C'era una zia E c'era rimasta Questa conoscenza Ma Veda Chi non conosce Dio Talleria Sembra Dio Talleria E' una persona Che Intanto E' un tipo Scusi Chi era questa zia Di Dio Talleria Una zia Di Dio Talleria Diceva che era la zia Zia della moglie Di Dio Talleria La più vista questa Si l'ho vista qualche altra volta Però L'ho vista Ogni anno L'ho incontrato La vedevo A Porto Rotondo Non è che Da 77 in poi Che poi Avelleggiavo A Porto Rotondo Io la vedevo Forse Veda Porto Rotondo Non so Io penso che qualcuno C'è stato a Porto Rotondo C'è una piazzetta Allora Adesso ce ne saranno tante piazzette Ma allora Quando ti parlo io C'era solo la piazzetta Di Porto Rotondo E allora Tutti Chi faceva una passeggiata O chi La sera Voleva fare Un giretto Andare In qualche In un caffè Doveva andare In questa piazzetta C'è poco da fare Perché non c'erano Altri posti Perciò chi abitava A Porto Rotondo Si si incontrava O la mattina O la sera Ma una volta Si si incontrava Ora credo che La signora La zia Di Dio Talleria Abitasse Ah proprio Alle spalle Di questa piazzetta Perciò Voleva volare Per andare Nella piazzetta Si doveva passare Sotto dove abitavano loro Si si doveva incontrare Per forza Non si ricorda il nome Di questa signora Lo so ma Adesso non me lo ricordo Se me lo ricordo Gli lo dico Non so se è una persona Che ha avuto problemi giudiziari Non lo so Io so che è stata Coimputata con me Lì a Roma Però non so Il processo è finito No io per problemi giudizieri Parlo di Perciò 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 Perciò